L'agroalimentare è uno dei punti di forza del territorio, quali sono le priorità per valorizzarlo? Io penso che il miglior modo è quello di riconoscere le realtà dinamiche che sono presenti e sono tante e favorire un punto di incontro, di colloquio, di dialogo con i centri di cerche e con l'università. Questa è la scommessa per vincere la sfida dell'innovazione che è l'unica prospettiva e può far dare a questo territorio così fertile, così ingegnoso e così operoso una prospettiva concreta di crescita e di sviluppo. L'incontro di oggi che abbiamo fatto dimostra come quando questi mondi si incontrano, l'università e le aziende nascono accordi e possibilità di sviluppo reale e concreto. Per questo ci stiamo impegnando e ci impegneremo anche domani perché le istituzioni riconoscono e sostengono questo lavoro comune, fonte di benessere per tutti.